La figlia di Cindy Crawford Kaya Gerber accusata di anoressia La figlia di Cindy Crawford Kaya Gerber accusata di anoressia. 1 ottobre 2017, di Alice Grisa. La giovanissima top model è stata accusata di anoressia sul proprio profilo Instagram. Kaya Gerber ha debuttato alle settimane della moda di settembre. Il mondo della moda ha guadagnato una nuova modella debuttante nel 2017, si tratta di Kaya Gerber, 16enne figlia di Cindy Crawford. La ragazza ha cominciato a sfilare alla New York Fashion Week e da lì è volata a Londra, Milano e infine a Parigi. Kaya ha dichiarato di essere molto emozionata e onorata di calcare per la prima volta le passerelle, e ha potuto contare del sostegno e della vicinanza di colleghe come Gigi, Bella di Dokken dal Jenner, nonché sui consigli della madre stessa. Ma Kaya in questo mese di passerelle è stata anche molto attaccata per le sue forme troppo esili e la magrezza eccessiva. In molti hanno preso da salto il suo profilo Instagram dandole dell'anoressica. Una foto condivisa dall'adolescente sul proprio profilo ha scatenato una marea di polemiche, da chi si è limitato a un Kaya per favore, mangia di più a chi invece ha approfittato dell'occasione per insultare il fashion assistant. Non è colpa sua, è la pressione dei clienti, della case di moda che vogliono modelle super magre per vestire le loro creazioni. È sfortunata perché è una bella ragazza ma così funziona l'industria della moda. Qualcun altro invece ha accusato pesantemente i follower, Kaya, chiunque, è davvero inquietante che si trovi questa ragazza bella. Tutti sanno che perdere così tanto peso è dannoso per la salute, è uno scandalo dire che quel corpo è perfetto, lei è oggettivamente troppo magra. Qualcuno ha tirato in ballo anche la madre, tua madre pensa che tu sia ok? Cindy Crawford è famosa per aver mantenuto le proprie curve. Voi che ne pensate? È costituzione quella di Kaya Gerber o è stata costretta a perdere molto peso? .